E quando noi principiamo questa lente, come questa lente di vetro sul dispositivo, allora dall'immagine di questa piccola lente arriva la luce che va verso il dispositivo fisico. E così vediamo che dalla superficie esterna della piccola lente la luce va verso il dispositivo, quindi avvolge il dispositivo, però va anche dentro il dispositivo. E poi la luce che torna dall'espositivo entra nel punto centrale e si trova nella piccola lente nel nostro pensiero. Così noi vediamo che l'elemento del nostro pensiero, l'immagine della piccola lente nel nostro pensiero, è collegata tramite una sezione di luce con il dispositivo fisico. E siccome noi tratteniamo sempre la concentrazione sull'immagine della piccola lente nel nostro pensiero, allora queste flottazioni di luce che partono dall'immagine della lente nel nostro pensiero e vanno verso il dispositivo e poi tornano dal dispositivo alla piccola lente nel nostro pensiero, quindi queste flottazioni di luce sono permanenti, quindi succedono sempre. Quindi così noi vediamo costantemente i collegamenti tra gli elementi del nostro pensiero, e l'immagine della piccola lente e anche il dispositivo fisico. E quando noi ci concentriamo in questo modo, noi così otteniamo il livello fenomenale di percezione. La lente nel nostro pensiero ha le stesse caratteristiche proprio come anche la lente fisica sul dispositivo. così per esempio noi abbiamo evidenziato la felicità di tutto il mondo nella lente dentro il nostro dispositivo, e quindi nel nostro pensiero succede la stessa cosa. E ora cercate anche di sentire, di percepire la lente nel pensiero, cercate di percepire che la lente nel pensiero ha la stessa densità, per esempio ha anche lo stesso tipo di vetro come la piccola lente nel dispositivo fisico. E noi vediamo anche che la lente, in questo caso, lavora anche come un elemento fisico. E quindi poi anche il nostro pensiero... E il nostro pensiero lavora in modo identico all'elemento dell'ambiente esterno. Nello stesso modo come funziona la lente nel modo fisico, nel mondo fisico, nello stesso modo anche la piccola lente nel nostro pensiero funziona, lavora, vediamo che in realtà non hanno le differenze. E quindi noi abbiamo già evidenziato, per esempio, l'immagine della piccola lente, e quindi tratteniamo questa concentrazione. Vediamo che la piccola lente funziona esattamente come la lente sul dispositivo fisico. E poi noi vediamo anche come le informazioni esterne vengono convertite nella struttura di sviluppo eterno. Ora ci concentriamo sulla nostra percezione. Dio poteva creare il suo corpo fisico solo grazie alla sua concentrazione personale. E l'immagine della piccola lente funziona. E l'immagine, come anche un oggetto fisico, ad esempio, l'immagine ha la stessa proprietà. Allora, risulta che ci basta semplicemente creare un'immagine nel nostro pensiero e poi questa immagine si realizza nella realtà fisica. Allora, risulta che in questa piccola lente nel nostro pensiero il nostro obiettivo è quello di realizzare quelle immagini luminose e quelle immagini felici. Quindi, nella realtà fisica, sempre con l'obiettivo della salvezza delle persone e dello sviluppo eterno di tutti. Grazie.